e salve a tutti ragazzi e voi tornate in una nuovissima vettura con me Matteo Studio oggi faremo la reaction al trailer di GTA 6 uscito ieri a luna e oggi ci faremo appunto la reaction solo reaction niente di veri di personale giusto se è bello o brutto alla fine ma se volete un'analisi ditemelo qui sotto nei commenti detto questo andiamo al trailer che sono curiosissimo vai non so se è da capire perciò parlerò eh ma questa è la grafica del gioco porco giù ragazzi no no ma è la grafica guarda al mare no no ma è tutta una roba pazzesca è pazzesca la grafica no raga porca vacca la grafica cioè si capisce che è un videogioco eh però tra l'altro l'avranno detto che però la grafica ci sta un botto mamma mia eh si capisce però le volte neanche il roppo eh ci sta tantissimo tra l'altro non so se è la storia si penso si sia la storia perciò si 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 dovrebbe essere la storia e tra l'altro ragazzi asce nel 2025 ragazzi quindi troppo distante troppo troppo però secondo me dai 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 si può fare si può fare e ci sta tantissimo ma guardate qua la grafica dai ditemi se volete la serie nel canale eh ditemelo ditemelo perché è tanta roba veramente veramente tanta roba detto questo ragazzi noi ci possiamo salutare ci possiamo vedere in un prossimo video è tutto bye bye guys ditemi se volete la recensione ciao 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 ciao